Polpette di patate alla siciliana. Polpette di patate alla siciliana. Guarda che sono bello, guarda. Bellissime. E che sono? Sono buone. Buonissimo. Favorito, coperchio consulato. Zia Teresa, buongiorno. Sempre ai fornelli. Sempre, io vi mostro due patate. Avete bollito le patate? Perché ho già fatto due popette di patate alla siciliana. Polpette di patate alla siciliana? Sì. Mai sentite, proviamo. Ora vi faccio provare. Quindi abbiamo bollito tre patate. Quanto pesano più o meno? 350 grammi? 350-400. Che poi è un mese ottimo, un mese pesato. Però se dobbiamo dare una dose, 350 grammi. Ok. Ok, adesso le stiamo sbucciando. Sì, è come oggi. Le sbucciamo e poi andiamo al tavolo? Sì, sì. Vedi se è fatto? Avete trotto la buccia alle patate? Sì, le sto schiacciando. Con lo schiacciapatate antico. Anticamente. E voi fanno chiudere qua. Le schiacciapatate che dove si tanti, tanti, tanti anni. O sopra le schiacciapatate potranno nemmeno di ore. Uno e due. Ecco qua. Ecco qua. Ora facciamo i pappetti e le patate alla siciliana. Mettiamo un uovo. 70 grammi di pecorino. 70 grammi di pecorino? Sì. Però va bene, anche altro formaggio. Caccia cavallo. Sì, qualsiasi formaggio che tiene. O caccia cavallo. Che lo che tiene, tiene. Sale. Quanto basta. E pepe. Quanto basta a gusto. E cominciamo a bastare. Che mani pulite. Mani lasciacquati. E se basta. Lo mettiamo 70 grammi di pane grattugiato. 70 grammi di pane grattugiato? Sì. Sì, è stato fatto sulle secondi belle spicchiare aglio. Però non metto più l'aglio. Non mi piace. C'è anche lo spicchiato aglio tritato. Così ho fatto in Sicilia. E se ci mettono l'aglio, a me non mi piace l'aglio. Eh, noi evitiamo. Ma a chi piace? Uno spicchio taglio tritato. Pezzemolo. Pezzemolo, già sciacquato. Sempre. Lo andiamo a tritare. Ma sono piccolini, piccolini. Extravergine. C'è un bel filo di foglie. Extravergine. Qui lo do l'extravergine. E poi impastiamo tutto. E andiamo ad impastare di nuovo tutto. Ecco qua. E' già sopporto, ti sei andato? Sì, perché le facciamo riposare poco, però. Siamo stancati. Ti facciamo riposare, se no? Sì. Le formiamo, le facciamo riposare. E facciamo riposate. Stiamo formando le nostre polpette di patate alla siciliana. Ecco qua. Veloce, veloce. Non c'è niente a le fare. Ecco. Ecco. Se avete visto, le polpette di patate completate. Vogliamo riposare un po'. Le facciamo riposare un po'. Sì. E poi vogliamo friurre. Se avete visto l'olio è caldo? Sì. Ecco le nostre polpette di patate nell'olio. Come sono bellissime. Sì, c'è l'olio. Sono simpatico. Mangiuriamo? Sì. Ecco. Oh, sono molto belle. Ecco, ma dove? Si è fatta la stracicina, si è fatta. Sì, è che sto prendendo il giardino. Ma dove? Non c'è l'olio, non c'è l'olio? 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 Ecco, come sono venuti? Ecco qua. Bellissime. Alziamole tutte e facciamole affreddare e andiamo all'assaggio. La prima volta ho tagliate le polpette di patate alla siciliana. Polpette di patate alla siciliana. Guarda che sono bello, guarda. Bellissime. Sono buone. Buonissime. Favorito, coperbo consulato.